l'avete riconosciuta è la cucina della nonna che a molti di noi riaffiora ricordi un oggetto edito a riscaldare cucinare ottenere acqua sempre calda ed infornare dentro il suo caldo forno la nonna chiamava questa piattaforma la multiuso ed amava la sua stufa accanto sempre la cesta di legna la cui provenienza prevalentemente dai boschi un oggetto pratico ed efficace dove sia tutto per il fabbisogno casereccio cucina forno calore utile per casa e famiglia sulla piattaforma di ferro si cucinano ottimi brodi sughi o legumi gustosissimi a fabbisogno si ha direttamente l'acqua calda al lato cucinare al forno è semplicissimo basta preparare la pietanza infornare e dopo 30 minuti è pronto racchiuso nel profumo della pietanza che avvolge tutta la casa e che sapore le mele cotte al forno non si butta via nulla anche la cenere si riutilizza in diversi modi la stufa emana un naturale calore che riesce a riscaldare fino a 100 metri quadrati di abitazione alla nonna amava sempre oggetti pratici ed efficienti prospera all'utilizzo di legna di bosco senza tecnologia se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale ciao